Un Natale che porti la salute, che ci tenga lontano da questa malattia insidiosa, da questo virus. Poi un Natale, speriamo, di speranza, cioè che porti tanta speranza soprattutto alle persone che dormono fuori, che hanno problemi. E speriamo che non sia vero quello che sentiamo dire dai mass media, eccetera, la faccenda dell'economia che cambierà, economia diciamo umana, con l'economia invece quella delle grandi finanze, eccetera. Quindi speriamo, queste sono le nostre speranze. Allora, come procede l'attività qui alla Casa della Carità? Con tutte le, diciamo, tutte le precauzioni che il caso esige, noi cerchiamo di farli mangiare bene, come abbiamo sempre fatto. E c'è il cuoco che è dedicato e si preoccupa solo per loro, che abbiano sempre le proteine, i carboidrati, quello che serve per vivere anche per strada. Perché, ecco, che abbiano sempre il meglio. Per quanto riguarda la vigilia di Natale, facciamo una cena di pesce con un regalo che i Rotari, i Rotari, mi pare che si chiama internazionale, ha provveduto a regalarci, a fornire. Ecco, e poi l'ultimo dell'anno abbiamo preparato dei maglioncini, però di pile, ovvio perché quelli costano un po' meno, e da regalare a tutte le persone che saranno nostri ospiti in quei giorni. Grazie. 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 Grazie.